Il 26 gennaio Portofino Soccer Club organizza l'annuale Inner Dance per informazioni 905-949-2653. Il 3 febbraio la confraternita del Santissimo Rosario di Tolonto invita la comunità alla celebrazione della Candelora presso la cappella del Santissimo Crucifisso a World Bridge alle ore 15.30. Rosario, Messa e Paneginico per informazioni 905-602-61-41. Il 4 febbraio si è invitati presso la chiesa di San Bernardo su Lorenz in Genio per il menzino di San Pino. Rosario alle ore 19, Santa Mista per informazioni 416-241-67. Il 10 febbraio i missionari a Dovini e Montalto Fudo Club invitano i devolti della Madonna della Serra a partecipare ai festeggiamenti con inizio alle ore 15. Santo Rosario, Messa e Rinfresco presso la Dovini della Giovo Bridge per informazioni 905-417-93. Il 17 febbraio unitevi a noi di Radio Cina per una serata indimenticabile. Il Valentine New Year Dance, l'ospite d'onore direttamente dall'Italia più da lì. Inoltre vaderete insieme a Vilde Rosa e i ragazzi da lì. Per informazioni visitate il nostro sito cinedio.com Carissimi amici, siamo prescriviti alla confusione di ora qui che è portato a voi da Cedeo, Cidi e International. Come sempre, grazie di averci seguito. Noi vi lasciamo questa sera con un video molto interessante. L'insegnante di Vanna, Rory Weiss, è riuscita a calcolare la sensazione dei suoi studenti di matematica come con le canzoni a nuova, creando un interesse e aiutando i ragazzi. Buona visione a tutti e da tutta la frutta di ora qui, buona sera. Buona visione a tutti. 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 Buona visione a tutti.